Sono volontario a Milano News da quasi due anni, sono arrivato con un sogno, quello di creare il mio lavoro, di dar vita a qualcosa di importante che mancava alla mia città. Ho 25 anni e come me qui nell'associazione siamo tutti volontari e ci sono tanti altri giovani ragazzi che come me vogliono crearsi il proprio futuro. In un contesto come quello di oggi in cui è difficile trovare un impiego abbiamo deciso di costruirci il nostro lavoro con le nostre stesse mani, di costruire il nostro stesso futuro. È evidente che per mandare avanti l'associazione non possiamo farcela da soli, forse non è neanche quello che vogliamo, nel senso che siamo una web tv, siamo sui social, noi informiamo i cittadini e lo facciamo con il loro aiuto, noi prendiamo le notizie dei cittadini per informare i cittadini, costruiamo i nostri notiziari insieme a loro, insieme ai milanesi e allora sarebbe bello costruire una realtà sempre più importante con il contributo dei milanesi, creare qualcosa di nuovo tutti insieme per dar vita a qualcosa che manca a Milano, una realtà nuova all'avanguardia per la città. Chiediamo solo pochi euro e potremmo davvero dar vita a una realtà nuova per la nostra città, potremmo dar vita alla nuova tv di Milano.